Gli accordi che indicavano il 2021 come ultimo anno di vita di Podere Rota devono essere rispettati. Lo ha sottolineato nuovamente il gruppo delle liste civiche san Giovannesi a tre giorni dall'audizione pubblica che darà il via ufficialmente a dibattito sul progetto di ampliamento della discarica. Nella relazione sulla gestione all'ultimo bilancio della società CSAI Spa viene candidamente espressa la possibilità di poter utilizzare il richiesto ampliamento anche per rifiuti urbani, hanno detto i civici. I nodi vengono a pettine, la Regione non riesce a gestire rifiuti dell'area florentina che quindi devono ancora essere conferiti, chissà per quanto tempo ancora, a Podere Rota. Tutto pare già deciso dall'inchiesta pubblica alle tempistiche successive alle elezioni regionali della richiesta di ampliamento. In questo scenario urlano i silenzi di chi governa la Regione e non può essere altrimenti perché se parlassero smentirebbero se stessi. Le liste civiche hanno chiesto alle istituzioni locali che si dicono contrarie all'ampliamento di chiamare in causa, senza pensare alle appartenenze politiche, chi governa la Toscana. In primo luogo la dirigenza del PD regionale, il suo capogruppo in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, così tanto legato al Valdarno, ma adesso silente in merito a questo nuovo ampliamento, hanno precisato. Il nostro territorio è stanco di pagare con la propria salute interessi di partito e di far arricchire una società come CSAI, che è bene ricordare, a cospicue quote private nel proprio assetto societario.